Aprire un centro culturale oggi è un'impresa rara, è un'impresa anche difficile da condurre, però anche molto affascinante. Io credo che la cosa principale che bisognerà fare sarà quello di sentire la comunità a cui si rivolge, di sentire le sue esigenze, le sue ambizioni e soltanto così si potrà fare un buon lavoro. Io credo che nel mio piccolo cercherò di dare il mio contributo. Buon lavoro a tutti!